Scusate, velocemente perché Sergio mi ha stimolato. Allora, non è ovvio, siamo nella transizione, però la cosa preoccupante è che cosa sta succedendo. Allora, ho fatto quell'esempio della Wind prima, sembra stupido, ma lo considero paradigmatico, perché noi, non so... Sì, poi sono terrorizzato su Diego Castagno che fa le cose sulla morte digitale. Diego, ti prego, salvaci dalla vita eterna, ti prego, salvaci dalla vita eterna. Allora, no, seriamente, il tema che vorrei affrontare, attenzione, noi stiamo producendo una società del fare le cose che sostituisce la società dell'agire sulle cose. Quanta gente vi dice, ma scusate, gli ho mandato una mail. Quanta gente mi dice, ma io l'ho fatto, ma che vuol dire che l'ho fatto? Chi segue il processo? I processi, più queste cose vanno avanti, più diventano complessi. Complessi significa che dipendono gli uni dagli altri. In questo momento, adesso ve ne dico una buttata lì, sono sicuro che c'è al Ministero della Cultura, in una sala polverosa, un gruppo di persone che sta discutendo sul perché la gente non va più a teatro. E come si fa a mandare la gente a teatro. In il frattempo c'è qualche altro palazzo dove si sta discutendo di come arginare la violenza sulle donne. Cioè, avete mai pensato a quanto possano essere legati i due fenomeni? Cioè, noi abbiamo smesso, da quando eravamo raccoglitori, di vivere secondo natura e viviamo secondo cultura. Quindi, mentre gli animali vivono di istinto, noi viviamo di educazione sentimentale. Ma l'abbiamo codificata nel teatro, nel cinema, nella poesia. Provate a staccare tre, quattro generazioni dal teatro, dal cinema e dalla poesia. L'istinto è sempre lì perché animali siamo. L'istinto era tappato, otturato, gestito dalla nostra cultura. Fate fuori la cultura per tre, quattro generazioni e poi succede che, non andando a teatro, non ho neanche il linguaggio o le parole per reagire con rabbia, e parte un pugno. Ecco, allora, la complessità del fenomeno è una complessità che va, secondo me, tenuta sempre presente sulla società. Io sono un fan dell'articolo della Costituzione che parla della cultura, la ricerca scientifica, la ricerca tecnologica. Ecco, quell'articolo là è come la ricetta degli spaghetti. Nel senso che potete mettere il sugo nell'acqua che bolle? No, le cose vanno fatte in ordine. Allora, come la fai la salvaguardia dell'ambiente se non hai fatto ricerca scientifica che sta a rigo di sopra? E come la fai la ricerca scientifica se non hai fatto la cultura che la Repubblica, che è la prima cosa indicata in quell'articolo? Ecco, secondo me questo grande assente, la cultura è un grande assente. La cultura, la poesia non sono l'ornamento di un paese, sono le lacrime e il sangue di un popolo. E su quelle lacrime, su quel sangue che poi si costruisce tutto il resto, anche la possibilità di gestire l'intelligenza artificiale per il bene comune invece che per il bene economico di chi ci impone un solo punto di vista.